Sono state due le vie che il Papa ha indicato ai partecipanti al convegno internazionale sulla musica sacra organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura su Musiche e Chiesa, Culto e Cultura a 50 anni dalla Musicam Sacram ricevuti in Vaticano. Due strade per esprimere al meglio la partecipazione dei fedeli e la celebrazione eucaristica per entrare nel mistero, percepirne il senso, grazie a religioso silenzio e alla musicalità del linguaggio con cui il Signore ci parla. Da un lato il Papa ha suggerito di salvaguardare il patrimonio del passato, utilizzandolo con equilibrio nel presente ed evitando il rischio di una visione nostalgica o archeologica. Dall'altro fare in modo che la musica sacra e il canto liturgico, ha detto, siano pienamente inculturati nei linguaggi artistici e musicali dell'attualità, traducendo la parola di Dio in armonie capaci di far vibrare il cuore. Infine, il Pontefice evidenziando una certa mediocrità, superficialità e banalità del passato ha esortato musicisti e compositori a contribuire al rinnovamento qualitativo della musica sacra e del canto liturgico e a promuovere un'adeguata formazione musicale anche nei futuri sacerdoti, favorando soprattutto il dialogo con le correnti musicali di oggi. Vi incoraggio a non perdere di vista questo importante obiettivo, aiutare l'assemblea liturgica e il popolo di Dio a percepire e partecipare con tutti i sensi fisici e spirituali al mistero di Dio. La musica sacra e il canto liturgico hanno il compito di donarci il senso della gloria di Dio, della sua bellezza, della sua santità, che ci avvolge come una nube luminosa.